amici amici carissime buon tornati in questa nuova puntata del ciclo di catechesi dedicata a maria di magdala negli scritti di maria voltorta procediamo il nostro percorso oggi e andremo a sviscerare con l'aiuto del signore alcuni particolari avvincenti di questo travagliato percorso di questa che poi sarebbe stata una grande santa però è molto importante seguire con attenzione queste prime fasi che mostrano proprio in maniera meravigliosa il travaglio la dinamica della della conversione e tutto il combattimento interiore che 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 comporta abbiamo visti i primi approcci di maria di magdala con le sue reazioni altalenanti controverse miste momenti a momenti di di ironia di disprezzo ecco abbiamo visto che la volta scorsa il nostro signore non ha avuto paura pur non rivolgendosi direttamente a lei però di stigmatizzarla pur parlando in generale direttamente provocando le reazioni rabbiose di schermo ora paragrafo che ci accingiamo a leggere un paragrafo abbastanza consistente non troppo ma abbastanza è quello relativo intitolato scusate a magdala nella sua casa di peccato io ho già parlato troppo nei preamboli quindi comincio la lettura e ascoltiamo con attenzione il collegio apostolico al completo è intorno a gesù seduti sull'erba al fresco di un ciuffo d'albero presso un rio tutti mangiano pane formaggio e bevono dell'acqua del rio che è fresca e limpida i sandali polverosi dicono che già molta strada è stata fatta e forse i discepoli non chiederebbero che di riposare nell'erba alta e fresca ma l'instancabile camminatore con la c maiuscola non è di questo parere non appena giudica passata l'ora più calda si alza in piedi si fa sulla via e guarda poi si rivolge e dice andiamo semplicemente giunti ad un bivio anzi ad un quadrivio perché quattro vie polverosi si uniscono in quel punto gesù prende risolutamente quella che va in direzione nord est torniamo a caparnao chiede pietro gesù risponde no unicamente no allora tiberiade insiste pietro che vuole sapere neppure ma questa via va al mar di galilelli via tiberiade caparnao puntini puntini e via anche magdala dice gesù con un volto semiserio per far calmare la curiosità di pietro piccolissimo pit stop curiosità che è sempre indiscreta perché appare palese che gesù non voleva dire dove stavano andando ecco quindi sarebbe bene qualcuno una persona non vuole si capisce che non vuole riferare qualche cosa non incalzare con troppe domande dirette questo ho detto tante volte insomma no perché qui poi gesù giudica bene accennare una risposta e la cenna ma questo non toglie quantomeno un'imperfezione se vogliamo essere buoni della curiosità di pietro stiamo avanti magdala pietro un poco scandalizzato il che mi fa pensare che questa città abbia cattiva fama a magdala è gesù che parla sì a magdala reputi di essere troppo onesto per entrarvi pietro pietro per amore mio dovrà entrare non in città di diletto ma in veri lupanari non è venuto il cristo per salvare salvati ma per salvare i perduti e tu tu sarai pietro o cefa e non simone per questo hai paura di contaminarti no neppure questo vedi e accenna al giovanissimo giovanni neppure questo ne avrà danno lui no perché non vuole come non vuoi tu come non vuole tuo fratello e il fratello di giovanni come nessuno di voi per ora vuole finché non si vuole non avviene male ma occorre non volere fortemente e costantemente forza e costanza si acquistano dal padre pregando con sincerità di intenti non tutti saprete in seguito sempre pregare così che dici giuda non ti fidare troppo di te stesso io che sono il cristo prego costantemente per avere forza contro satana sei tu da più di me l'orgoglio e fessura per cui satana penetra si vigilante e umile giuda matteo tu che sei molto pratico del luogo dimmi è meglio entrare da questa via o ve ne ha un'altra prima che matteo risponda lui che è molto pratico del luogo che insomma ci fa capire lo stile di vita che conduceva prima della conversione prima che matteo risponda avrei qualcosa da 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 sottolineare io ecco numero uno compare la mentalità di pietro che ancora intrisa di ebraismo facile allo scandalo nei confronti dei grandi peccatori allora chiaro che grandi peccatori non è che bisogna dirgli bravi però quello che gesù ha insegnato è ad avvicinarli per convertirli ovviamente è non per dirgli bravo ecco perché i peccatori si si avvicinano oggi sono molto di di moda queste espressioni non per dirgli bravo per dirgli va tutto bene non ti preoccupare da quello stesso non c'è bisogno di niente vieni e stai tranquillo no si accosta di peccatori per convertirli per aiutarli a convertirsi per costamente la conversione un'operazione divina ecco però non bisogna mettere dei dei muri pregiudiziali gesù è venuto per salvare i peccatori siamo messi tutti quanti abbastanza male non ti preoccupare perché se tu vai con questa purezza di intenzioni non avrai danni è chiaro però che per non avere danni bisogna non volere fare male e non volere fortemente costantemente negli scritti di maria valtorta anche se su una prospettiva un po diversa da quelli di della serva di dio luisa piccarreta gesù tantissime volte sottolinea con forza l'importanza della buona volontà cioè della volontà volta bene da cui tutto dipende il diavolo non ci può fare niente se noi non vogliamo a me quando qualcuno mi dice mi hanno costretto a fare questa cosa io dico sempre dico attenzione ai termini perché costretto significa che tanto per fare un esempio che ti ti legano qualcuno dice tu non ti vuoi prendere una medicina se qualcuno ti mobilizza un altro ti apre la bocca ti mette la pasticca dentro la gola te la spinge dentro in quel caso ti hanno costretto ma se ti minacciano ti dice guarda che se non ti prendi quella pasticca ti faccio qualcosa e tu con la pasticca magari sai che non te la devi prende o non te la vuoi prendere se tu te la prendi non è che ti hanno costretto tu hai ceduto ad una pressione per quanto forte per quanto violenta o una minaccia ma non sei stato costretto cioè l'ultimo atto è sempre della nostra volontà i martiri vogliamo parlare con loro gli mettevano davanti la statua di l'altarino con il dio pagano il dio quella di minuscola e davanti il brasciere con l'incenso dall'altra parte c'era la finestrella aperta con il leone che si stava già leccando i baffi che ci aveva fame che vuoi fare se metti un pochino di incenso davanti a giove la finiamo qui altrimenti si passa per la porticina e auguriamo buon appetito al leone e arrivederci penso che sia una bella prova no? ma i martiri non ho avuto nessun dubbio e chi ha ceduto i cosiddetti lapsi ha peccato mortalmente nonostante che stesse sotto pressione ora forza e costanza si acquistano dal padre per questo che pregando pregando con sincerità di intenti e qui si vede che giuda stava facendo il galletto proprio lui che era quello che per questa intenzione doveva pregare più di tutti e che si riteneva esente dal dovere della preghiera e qui Gesù dice a lui e dice anche a noi io prego costantemente per avere forza contro Satana questa è una cosa veramente sconvolgente Gesù che prega per avere forza contro Satana pur avendo in quanto Dio l'impero di abbatterlo e di atterrirlo in qualunque momento ma lui in certe cose da quello che ci è dato di capire l'ha fatto tante volte nella sua vita aveva i superpoteri evidentemente divini ma si è comportato come se non li avesse spero di riuscire a farmi spiegare perché altrimenti se lui avesse capite in continuazione usato i suoi superpoteri divini come avrebbe potuto diciamo così anche un pochino come si legge nella lettera di San Paolo guardate che lui ha conosciuto ha compatito la nostra debolezza perché l'ha vissuta sa che cosa significa essere uomini certo lui è un'umanità ancora perfettissima quindi non segnata dal peccato originale ci mancherebbe insomma no però un'umanità vera cioè le tentazioni di Gesù non sono state una pagliacciata quindi un'operazione di facciate cioè vabbè facciamo venire il diavolo a tentare ma poi io adesso tanto lo asfalto alla grande cioè questa è fuffa no sono state tentazioni vere e Gesù ne è emerso vittorioso imperiosamente vittorioso ci dice dopo 40 giorni di preghiera e di digiuno lui ecco quindi adesso andiamo a sentire la risposta di Matteo che è molto pratico e che quindi farà sicuramente l'oro da Cicerone per arrivare a Magdala meglio entrare da questa via o meno un'altra dipende maestro se vuoi andare nella Magdala dei pescatori e dei poveri questa è la via da qui si entra nel soborgo popolare ma non lo credo però lo dico per darti ampia risposta se vuoi andare dove sono i ricchi allora bisogna andare bisogna lasciare tra qualche cento metri di questa strada e prendere un'altra perché le case dei ricchi sono quasi a questa altezza e bisogna tornare indietro torneremo indietro allora perché è nella Magdala dei ricchi che voglio andare che hai detto Giuda? nulla maestro è la seconda volta che me lo chiedi in poco tempo ma io non ho mai parlato con le labbra no mai parlato mormorando col tuo cuore attenzione amici hai fatto della mormorazione col tuo ospite il cuore non è necessario avere un'altra creatura per interlocutrice per parlare molte parole le diciamo noi a noi ma non bisogna commettere mormorazione o calunnia neppure col proprio io pregherei tutti quanti di prendere appunti perché questi peccati bisogna confessarli questi bisogna confessarli cioè se io guardate vabbè non dico niente però vedo qualcosa o qualcuno e comincio dentro di me a fare le mie considerazioni i miei ricami questo è un peccato di pensiero che può essere anche molto molto serio specialmente quando è giudizio gratuito di pensare male no la prima volta adesso Gesù ci svela Giuda non ha parlato ma Giuda l'ha pensato a me non serve stare sempre a pregarci penso di asfaltare il diavolo primo peccato perché è superbia orgoglio secondo peccato entra dalla parte dei ricchi facciamo i generosi non mi sembra una cosa molto opportuna per il rabbi di entrare da questa parte dove ci sta chissà quale grande scandalo non si fanno queste cose amici cari e attenzione attenzione perché poi non lo so se Giuda ma la mimica di molti di noi è molto eloquente e ci sono persone che con la mimica tra l'altro una mimica non si sa se volutamente o si tradiscono ma proprio eloquentissima dicono molto più che di mille parole sarebbe meglio che la dicessero la la mormorazione o il giudizio o la critica quindi attenzione al controllo dei pensieri perché Dio li vede e il prossimo spesso e volentieri a meno che non è stupido ma noi non dobbiamo pensare che ci sta intorno a noi è stupido dobbiamo pensare pensando bene che è intelligente e non è cieco e quindi le cose si vedono molte relazioni si disfano molte antipatie molte cose non si sono mai detti niente di male a parole ma si sono massacrati a pensieri pensando le pesti e le corne più gravi possibili del prossimo sono cose da confessare con sincero pentimento e da non farle più gli israeliti nel deserto spesso e volentieri mormoravano nel cuore qualche volta si dicevano ah ma questo Moseto ci sta portando ah magari fossimo morti in Egitto che almeno là si mangiava si beveva e si dormiva qualche volta lo dicevano ma qualche volta lo pensavano e cosa dice il Deuteronomio 8 io ti ho condotto 40 anni nel deserto per farti conoscere quello che c'era nel tuo cuore noi quello che c'era nel nostro cuore lo dobbiamo sapere e se è cosa di cui vergognarci dobbiamo andare a piangere i piedi del signore dice guarda che ma guarda che mi passa per la testa guarda quanto so cattivo e poi dobbiamo anche chiederci come mai sono così cattivo cosa c'è dietro questa eventuale cattiveria qui se siamo capaci di fare un pochino di introspezione rimando alle catechesi dal non senso alla vita di cielo e se un giorno saranno rispolverate anche queste perché adesso stiamo in fase di restyling adesso con la scusa delle pubblicazioni stiamo restaurando un po' c'era anche chi sono io per poter amare che era il prequel l'antica edizione del catechesi importanti queste qui per imparare a fare un po' di introspezione dentro noi stessi in verità smettendola di raccontarci balle e di metterci le maschere e quindi di passare i secoli senza convertirsi mai da alcune situazioni di morte che per carità a volte non ci fanno commettere peccati mortali grossolani ma guardate che questi peccati qui rendono la vita impossibile alla persona e a chi gli sta intorno ve lo dico io credetemi il gruppo cammina in silenzio adesso la strada da maestra si fa cittadina con una pavimentazione a pietre larghe un palmo quadrato le case sono sempre più ricche e belle fra orti e giardini rigogliosi e fioriti ho l'impressione che la magdala elegante fosse per i palestinesi una specie di luogo di piacere come certe cittadine dei nostri laghi lombardi stresa gardone pallanza bellaggio eccetera ai ricchi palestinesi sono mescolati i romani certo venuti da altri luoghi come Tiberia o Cesarea dove intorno al governatore saranno certo stati dei funzionari e dei negozianti per esportare a Roma le cose più belle prodotte dalla colonia palestinese Gesù si inoltre assicuro come sapesse dove andare costeggia il lago al cui limite si affacciano le case e i loro giardini un grande coro di pianti esce da una ricca dimora sono voci di donne e bambini e acutissima una femminile che grida figlio figlio Gesù si volge e guarda i suoi apostoli Giuda si fa avanti non tu ordina Gesù tu Matteo va e domanda Matteo va e torna una vissa maestro un uomo morente un giudeo il feritore è scappato era romano un giudeo scusate ho letto male il feritore è scappato era romano sono forse la moglie e la madre e i piccoli bimbi ma muore andiamo maestro maestro il fatto è avvenuto in casa di una donna che non era moglie andiamo dice Gesù entrano dalla porta aperta in un largo e lungo vestibolo che da poi su un bel giardino pare che la casa sia divisa da questa specie di peristiglio coperto e molto ricco di piante verdi invasi e di statue e oggetti di intarsio un misto tra la sala e la serra in una stanza la cui porta è spalancato sul vestibolo sono donne piangenti Gesù entra sicuro non dà però il suo solito saluto fra gli uomini che sono presenti vi è un mercante che deve conoscere Gesù perché appena lo vede dice il rabbi di Nazareth e lo saluta con rispetto Giuseppe che è stato maestro un colpo di pugnale al cuore muore perché una donna grigia spettinata si alza era a ginocchi presso il morente al quale sorreggeva una mano già inerte e con occhi da pazza stride per lei per lei me lo ha insatanassato più madre più moglie più figli c'erano per lui l'inferno ti deve avere satana Gesù alza gli occhi seguendo la mano che tremando accusa e vede nell'angolo contro la parete color rosso cupo Maria di Magda la più procace che mai direi vestita di niente per metà corpo perché è seminuta dalla vita in su in una specie di reticella maglie esagonali di cosine tonde che mi paiono perline ma è in penombra non vedo bene Gesù riabbassa gli occhi Maria sferzata dall'indifferenza si erge mentre prima era come accasciata e si dà un contegno donna dice Gesù alla madre non imprecare rispondi perché tuo figlio era in questa casa te l'ho detto perché lei lo aveva reso pazzo lei silenzio lui pure era dunque in peccato perché adulto era padre indegno di questi innocenti merita dunque il suo castigo in questa e nell'altra vita audite audite non c'è misericordia per colui che non si pente ma ho pietà del tuo dolore donna e di questi innocenti è lontana la tua casa un cento metri sollevate l'uomo e portatelo là non è possibile maestro dice il mercante Giuseppe sta per morire fai quanto dico vedete piccolo stop retorico facciamo un bel quadretto su questa frase perché non mi sembra che sempre sia molto chiara specie nei nostri difficili tempi cito in questa e nell'altra vita non c'è misericordia per colui che non si pente facciamo così cito un'altra volta in questa e nell'altra vita non c'è misericordia per colui che non si pente siccome l'ho già letto una volta siamo arrivati alla terza citazione vado oltre non serve commento non c'è misericordia per chi non si pente non c'è mai stata né mai ci sarà Dio perdona chi è pentito ha sancito solennemente il concilio di Trento che ha definito tutti e sette i sacramenti tra parentesi sta per uscire ripetuta e corretta la versione dei sette sacramenti cartacea in testo che praticamente guardate descrive i sette sacramenti alla luce dei due concili dogmatici che li hanno definiti cioè il concilio di Firenze e il concilio di Trento quindi se uno vuole farsi proprio una cultura perché ci sono le citazioni delle frasi quindi delle affermazioni e degli anatemi dei concili perché poi c'è pure qualche anatema per chi mi sconosce la verità di fede e qualche piccolo commento da parte mia ok andiamo avanti se non lo facciamo in tempo a finire ma questo paragrafo passano una tavola sotto il corpo del moribondo e il corteo esce lentamente vediamo se qualcuno arriva a capire perché Gesù lo sta portando via questa ovviamente era la casa di Maria di Magdala traversa la via e penetra in un giardino ombroso le donne continuano a piangere rumorosamente appena dentro al giardino Gesù si rivolge alla madre che gliene aveva detto in sacca in asporta a Maria di Magdala puoi perdonare? se tu perdoni Dio perdona bisogna farsi il cuore buono per ottenere grazia sentite adesso che dice Gesù costui a peccato e peccherà ancora sentite adesso che dice meglio per lui sarebbe morire non perché va in paradiso perché vivendo ricadrà nel peccato e dovrà rispondere anche della riconoscenza verso Dio che lo salva e sentite cosa dice ma tu e questi innocenti e segna la moglie e i bambini cadreste in disperazione io sono venuto per salvare e non per perdere uomo io te lo dico sorge e guarisci io quando sento queste cose vado in estasi quindi a questo disgraziato perché questo è un disgraziato è un adultero l'adultero è un essere spreggevole l'adulterio è un abominio io le dico queste cose qui se qualcuno si scandalizza si scandalizzi penitenza per tutta la vita era richiesto una volta per il peccato di adulterio che è un abominio agli occhi dell'altissimo questo Gesù che conosce ripeccherà lo farà un'altra volta la recidiva nel peccato è aggravato dal lì di conoscenza a Dio perché questo sarebbe sarebbe morto Gesù adesso lo lo sana e quindi oltre al prossimo adulterio c'è anche lì di conoscenza a Dio quindi cosa sta dicendo se andrà all'inferno a patire di più perché attenzione figlioli miei cari come ci sono dei gradi di gloria in cielo ieri dopo una diretta una carissima amica mi dice ma ma che c'è la meritocrazia dico se la vuoi chiamare così chiamala così ma la gloria del paradiso è proporzionata ai meriti mica qualcuno penserà che padre Pio ha lo stesso grado di gloria di un peccatore che si penta all'ultimo secondo o qualcuno pensa questo e se questo fosse sarebbe una cosa buona così all'inferno ci sono dei gradi di dannazione distinti più peccati hai fatto e più gravi nei fatti e peggio starai e più torturato sarai e più disperato sarai funziona così funziona e sentite cosa dice alla madre quella che lo può fare chiede il perdono perché Dio perdona un ingrato adesso a ridargli la vita quindi tu devi perdonare quella disgraziata che gli ha fatto girare la testa perché anche lui è colpevole non te la prende solo con lei perché tu devi avere tutte quante le seduttrici che vuoi come ha detto prima Gesù ma se tu non vuoi non ci vai a letto con una che non è tua moglie scusate se sono un pochino prosaico bene riprendo la lettura l'uomo riprende vita e apre gli occhi vede la madre i figli la moglie e chi nel capo vergognoso figlio figlio dice la madre eri morto se gli non ti salvava torna in te non delirare per una puntini puntini Gesù interrompe la vecchia donna taci usa la misericordia che ti è stata usata la tua casa è santificata dal miracolo che è sempre prova della presenza di Dio per questo io non l'ho potuto compiere dove era il peccato capito perché non l'aveva fatto a casa di Maria di Magdala io ho chiesto prima vediamo se qualcuno ci arriva prima di leggerlo spero che molti si siano arrivati Gesù non gli fa i miracoli in una casa di peccato ah mamma mia allora non ha misericordia per i peccatori no Gesù non gli fa i miracoli in una casa di peccato non li fa non ha la misericordia qualcuno gli faccia una telefonata e gliela insegni scusate se divento a volte un pochino sarcastico ma io sono proprio stufo di sentire certe stupidaggini in giro a perdizione delle anime come si dice nella preghiera a San Michele Arcangelo non l'ha fatto e ha spiegato il perché dove c'è il peccato non si fanno miracoli non piace pazienza sappi tu almeno serbare tale se anche costui non lo saprà curatelo ora è giusto che soffra qualche poco quindi Gesù gli ha impedito di morire ma non è che l'ha rimesso un po' di sofferenze della cortellata ricevuta se le tiene che gli fanno bene si buona donna e tu e voi piccoli addio Gesù ha posato la mano sul capo delle due donne e dei vicini poi esce passando davanti alla Maddalena che ha seguito fino al limite della via del corteo ed è rimasta addossata contro un albero Gesù rallenta come per attendere i discepoli ma credo lo faccia per dare modo a Maria di fare un gesto ma ella non lo fa guardate questo è un'altra veramente vedete come funziona come funziona come deve muoversi la nostra volontà Gesù se la attendeva quel gesto quindi vuol dire che già Maria di Magdala se avesse voluto era in grado di farlo un primo gesto di niente sta ancora combattendo le spire di Satana sono ancora forti e ancora non c'ha la forza di liberarsene non trova la forza perché la grazia ce l'avrebbe altrimenti Gesù non si sarebbe fermato i discepoli raggiungono Gesù e Pietro non può trattenersi da dire fra i denti un epiteto appropriato a Maria presumibilmente questa che vuol darsi un contegno scoppia in una risata di ben povero trionfo ma Gesù ha udito la parola di Pietro e si volta severo Pietro io non insulto non insultare prega per i peccatori null'altro Maria spezza il trilo della sua risata china il capo e fugge come una gazzella in direzione della casa io dico sempre nel rispetto assoluto di chi non crede a queste cose cioè una immagine così meravigliosa e perfetta dell'umanità di nostro signore è un romanzo qualcuno dice che è un romanzo smielato manco tanto bello dico ma vabbè paragrafo seguente un segno di grande speranza Gesù con la compagnia dello Zelote giunge al giardino di Lanzaro in un mattino bellissimo d'estate ancora non è terminata l'aurora e perciò tutto è fresco e ridente il servo giardiniere che accorre a ricevere il maestro indica allo stesso un lembo di veste bianca che scompare dietro una siepe dicendo Lanzaro va alla pergola dei gelsomini con dei rotoli da leggere ora lo chiamo no farlo a farlo farlo crescere dammi ciò che con lacrime ti ho chiesto dieci e centomila volte ciò che ti ho chiesto con le azioni col perdono con tutto me stesso dammelo in cambio della mia vita dammelo in nome del tuo Gesù che mi ha promesso questa pace può mai egli mentire devo pensare che la sua promessa fu solo di parole che il suo potere è inferiore all'abisso di peccato che mia sorella dimmelo signore che io mi rassegnerò per tuo amore sì te lo dico dice Gesù Lanzaro si volge di scatto e grida oh mio signore ma quando sei venuto e si china a baciare alla veste di Gesù da qualche minuto solo con Simone Zelote ma qui dove tu eri sono venuto solo so che mi devi dire una grande cosa dimmela dunque no prima rispondi alle domande che io faccio a Dio a seconda della tua risposta te la dirò dimmela dimmela questa tua grande cosa la puoi dire e Gesù sorride prendo le braccia in atto di invito Dio altissimo ma è vero tu allora sai che è vero e Lanzaro va fra le braccia di Gesù a confidare la sua grande cosa Maria ha chiamato Marta a Magdala e Marta è partita in affanno temendo qualche forte sventura ed io qui con lo stesso timore sono solo sono rimasto ma Marta dal servo che l'ha accompagnata mi ha mandato una lettera che mi ha impito di speranza guardalo qui sul cuore la tengo lì perché mi è più preziosa di un tesoro sono poche parole ma le leggo ogni poco per essere certo che sono proprio state scritte guarda e Lanzaro leva dalla vestia un piccolo rotolo legato da un nastrino viola e lo spiega vedi leggi leggi a voce alta letta da te mi parrà più certa la cosa Lanzaro fratello mio a te pace e benedizione sono giunta presto e bene e il mio cuore non ha più palpitato di tema di nuove sciagure perché ho visto Maria la nostra Maria sana e te lo devo dire meno frenetica nell'aspetto di prima mi ha pianto sul cuore un grande pianto e poi a notte nella stanza dove mi aveva condotta mi ha chiesto tante tante cose sul maestro non più che questo per ora ma io che vedo il volto di Maria oltre che sentirne le parole dico che nel mio cuore è nata la speranza vedete vede il volto per questo amici io sono sempre se posso permettermi non soltanto per me ma per tutti io sono uno sponsor dei contatti reali chi mi conosce sa non lo faccio soltanto con le persone che mi contattano lontane diciamo così quelli che si chiamano a me non piace tanto questo termine ma i followers se uno va sul mio sito non si risponde sms whatsapp io non faccio queste cose e non mi e guardate non mi farà cambiare idea nessuno deve scendere l'omine di Dio e c'è un motivo per cui non faccio queste cose non è che non le faccio perché sono cattivo a parte il fatto che sarebbe un delirio adesso con tutta l'altra gente che mi contatterebbe ma la comunicazione deve essere deviso il messaggio ve lo dico anche per voi il messaggio sms il messaggio whatsapp il messaggio telegram è utile per dare informazioni e comunicazioni cioè c'è da fare questa cosa mi compri questa cosa mi passi a prendere quest'altra cosa hai fatto la spesa che ne so robe di questo genere non si deve mai parlare tramite sms mai parlare vuol dire non parlare di cose personali parlare di cose delicate mai un po' meno peggio la comunicazione come dire vocale un po' meglio un po' meglio perché almeno il tono della voce aggiunge la comunicazione scritta è fredda per quanto uno possa usare sticker e stickerini è fredda ma la cosa migliore è la comunicazione visiva perché il contatto diretto non lo dico io lo dicono i grandi esperti di scienza della comunicazione attuale oltre il 90% della comunicazione è data in maniera non verbale quindi tu quando scrivi tu stai comunicando il 10% di te stesso e anche malamente perché non si capisce il tono la forma se sei arrabbiato se non sei arrabbiato se sei serio se sei triste se sei allegro se sei scocciato se sei alterato sapeste quante volte qualche collaboratore dice ma che perché hai scritto questa cosa che sei arrabbiato io ma quando mai sembrava sembra male te lo dico proprio zero può succedere quindi io che vedo il volto di Maria quindi magari lei sta semplicemente facendo una serie di domande magari apparentemente anche curiose come dire sul maestro magari forse forse si dà qualche atteggiamento ancora un po' di 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 guardandola in faccia guardandola in faccia io certe cose a reposizione dico girati guardami in faccia importantissima non per niente i sacramenti soprattutto la confessione sapete tanta gente mi dice ma io voglio ci si può confessare online no no facciamo una bella videochiamata con signal quella è sicura al 100% signal di persona ma io che vedo il volto di maria oltre che sentirne le parole dico che nel mio cuore è nata la speranza prega fratello spera o fosse vera io resto ancora perché sento che ella mi vuole vicino come per essere difesa dalla tentazione e per imparare e per imparare che ciò che già noi sappiamo la bontà infinita di gesù le ho detto di quella donna venuta a betania vedo che pensa 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 ci vorrebbe gesù prega spera il signore sia con te Gesù ripiega il rotolo e lo rende Gesù ripiega il rotolo e lo rende maestro andrò modo di avvisare marta che mi venga incontro al cafarna o fra 15 giorni al massimo ne ho modo signore e io tu resti qui e anche marta la rimanderò qui perché meglio non chiedere ma Lazzaro era un amico quindi forse si può concedere la licenza perché le redenzioni hanno un pudore profondo e nulla fa più vergogna dell'occhio di un genitore o di un fratello io pure ti dico prega 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 la riservatezza virtù molto 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 rara la riservatezza figlioni miei cari la discrezione anche si chiama le anime invadenti indiscrete impiccione che si vanno appunto ad impicciare di cose che non le riguardano fanno danni e devono essere chiaramente fermate non bisogna permettere di fare queste cose qui mai la riservatezza le persone hanno il diritto alla riservatezza insomma ecco e quando per qualche per qualche motivo come dire si intercetta si vede si assiste a un qualche cosa che è riservato guai a fare domande indiscrete no lazzaro piange sul petto di gesù dopo quando si è ripreso racconta ancora del suo orgasmo dei suoi scoramenti è quasi un anno che spero che dispero come è lungo il tempo della risurrezione quindi capite con questo lazzaro ci dà un'informazione che dai primi come dire approcci abbiamo letto nei paragrafi precedenti è passato un anno ci può volere un anno anche di più Gesù lo lascia parlare finché lazzaro si accorge di mancare i suoi doveri di ospitalità e si alza per condurre Gesù in casa adesso c'è un paragrafo però un po' lunghetto che mi mette un po' in difficoltà perché se ci addentriamo in questo paragrafo temo che si debba correre o che non la si possa o che non lo si possa commentare in maniera adeguata quindi dato che siamo già quasi a 50 minuti io preferirei fare un pochino di di ripercorrere alcune cose che abbiamo viste insomma in questa circostanza una cosa che non ho per esempio approfondito bene cioè l'ho accennata ma non ricordo di aver sottolineato che è importante il motivo per cui Gesù guarisce quell'uomo questi innocenti cadreste in disperazione la disperazione quindi per non farli cadere in disperazione gli innocenti Gesù opta per la guarigione quindi perché evidenzio questa cosa nelle cose operate dall'altissimo o da lui permesse nulla è senza motivo non c'è niente che è senza motivo eppure meglio per lui sarebbe morire ma non esiste solo lui perché se cadono in disperazione gli innocenti corrono il rischio di dannarsi appresso a lui poverini cioè semplicemente cadendo sotto una situazione di cui di per sé sono vittime e quindi interviene quindi questo è un pezzo importante da ribadire secondo come dire la la delicatezza il gesto cortese amichevole ancora di più di Lazzaro scusate di Gesù che ovviamente sapeva quindi devi dire una grande cosa vedete come Gesù mostra anche chiaramente anche da questi piccoli dettagli la sua evidentemente conoscenza di tutte le cose lo dico perché non vorrei ho sentito dire nel corso della mia esistenza anche da 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 illustri pensatori corbellerie precisamente nelle cosiddette cristologie dal basso che negano dei dati che tra peraltro del nel del Angelo sono incontrovertibilmente tali quindi che Gesù ben sapeva tutto e non c'è bisogno di essere istruito da nessuno sotto nessun punto di vista ma siccome si sente addirittura dire ogni tanto che Gesù ha ha imparato io l'ho sentito dire di recente ha imparato anzi si stava stava facendo delle brutte figure e si stava comportando male e si è dovuto ricredere ha imparato ma guarda un po' dico qui ci abbiamo due Gesù differenti ma il Gesù vero è questo ricordate sempre che quando ci sono due realtà opposte non cioè non riducibili non conciliabili hai il discorso di una semplicità estrema se vogliamo far funzionare la logica e guardate che la logica dobbiamo sempre riprenderla ogni tanto cioè una è falsa e una è vera non è che terzi un non datur qual è la vera immagine di Gesù questa o quella delle cristologie dal basso nelle versioni poi sempre più raffinate che adesso giungono a bestemmiare dicendo che eh ma Gesù eh Gesù si è comportato male troppo rigido ha dovuto poi ricredersi e io continuo a pensare che non ho parole cioè non è non ci sono parole per per commentare una cosa del genere se non dico ma ci abbiamo due fedi differenti evidentemente sì perché io che sono un povero peccatore ma non mi azzarderei mai a pensare a una cosa del genere di nostro signore ma non mi azzardo eppure eppure quindi Gesù va lì come gesto di amore perché vuole dare a Lazzaro la gioia di condividere questa grande notizia dice devi darmi una grande notizia io l'ho calcato perché nel testo è in cortine è in corsivo so che mi divido in una grande cosa e poi i tempi i tempi dell'altissimo cioè le anime è fondamentale io questo l'ho imparato da sacerdote quindi le anime hanno dei tempi di maturazione dei tempi in cui arrivano alla conversione quindi a me poi me le raccontano le cose quindi persone che dopo qualche mese di ascolto prendono qualche colpo di grazia si mettono seduti confessione generale e vengono a farla persone che ci mettono meno persone che ce ne tra anche più poi dopo la conversione ci sono i tempi di maturazione delle anime e lì qui parla anche i miei confratelli bisogna fare molta attenzione perché dire una cosa prima del tempo dare un consiglio prima del tempo può essere micidiale perché se la persona ancora non è matura e non è pronta a sentirla una cosa non gliela devi dire devi aspettare che ci arrivi da sola io crescendo con gli anni gli anni crescono gli acciacchi aumentano i capelli diminuiscono sempre di più però si spera che cominci ad affiorare insieme con l'esperienza una cosa che ci fa rima speriamo che è un po' di sapienza e poi tu vedi gli scontri io ho avuto modo di verificare di qualche circostanza che non dire una cosa ero tentato di dire zitto non glielo dire lascia che ci arrivi da solo aspetta non è ora poi me la sono venuta a dire a me e io in qualche circostanza ho detto dico sai in quella volta volevo dirti questa cosa ma non te l'ho detta perché volevo che ci arrivassi da solo sono molto contento che ci sia arrivato da solo quindi sono segnali che fanno capire i tempi perché nel Coelet si legge tra le altre cose che ogni cosa va fatta a suo tempo e Dio guardate che sui tempi sui tempi quindi pazienza che Dio sa quello che fa perché lo fa come lo fa e soprattutto quando farlo e le anime hanno un pudore che va rispettato sia le anime peccatrice che si devono convertire ma sia qualunque altra anima che in ciò che attiene alla sua sfera intima e personale interiore spirituale non tollera intrusioni non tollera scrutazioni osservazioni zero chiaro bene ci vediamo se Dio vuole ci sentiamo la prossima settimana per un ulteriore viaggetto sulle orme di Maria di Magdala ormai quasi convertita possiamo annunciare Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga di Magdala